Un'ex clinica abbandonata, diventata covo di sbandati e uno stabile disabitato, deposito di droga, accade a Padova, dove la polizia è intervenuta in via Mincio, poco lontano dallo stadio Ganeo, in via Vicenza, dopo le numerose segnalazioni dei residenti. Nelle ultime ore così i poliziotti hanno sgomberato ben due palazzine, diventate ormai tane e fatiscenti. Lunedì mattina all'interno di uno stabile di via Mincio, durante il blitz, non c'era nessuno, solo le tracce del passaggio di qualcuno che aveva passato lì la notte, tra sporcizi e giacigli. C'erano anche 94 grammi di eroina, già divisi in 64 dosi, pronte per essere spacciate. L'edificio dunque doveva essere frequentato da pusher che lo utilizzavano come deposito. Martedì mattina invece in via Vicenza i poliziotti hanno trovato all'interno di un ex ambulatorio medico tre nordafricani clandestini che avevano occupato lo stabile. Uno di loro è stato espulso, un altro invece l'ha ricercato per spaccio di droga.